Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno. Oggi è mercoledì 29 settembre 2021 e questa è Fano TV, canale 17, visibile in tutta la regione Marche e anche sui nostri social, le pagine social e anche occhioanotizia.it. Oggi la Chiesa ricorda e celebra, festeggia i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Il sole sorgerà tra due minuti e tramonterà alle 18 e 54. Per i nostri telespettatori che ci seguono dalla provincia di Peso Urbino, la notizia è questa, che dal tardo pomeriggio ci saranno possibilità di locali rovescio temporali, in particolare nei settori interni della regione, quindi siamo nella provincia di Peso Urbino, per il resto avremo nuvolosità diffusa. Domani però, giovedì, come vedete, i rovesci invece interesseranno tutta la regione, sia i settori alto collinari che gli interni, ma anche la fascia costiera. Per quanto riguarda venerdì invece, il mese di ottobre si apre con un po' di nuvolosità variabile sulla costa, ma ancora precipitazioni residue, piovaschio, brevi rovesci, insomma, sulle montagne a nord e a sud della regione. Il fine settimana sarà caratterizzato da un giorno di condizioni di stabilità e dunque di bel tempo. Allora, andiamo adesso a leggere i giornali. Cominciamo dal Carlino di Peso, i titoli dei giornali. Allora, sull'ospedale decide la regione, il tema della sanità quindi in apertura, l'assessore Saltamartini rivendica la scelta del sito, la replica del PD, dopo un anno ancora nessun punto fermo. Mentre la città, la città di Pesero, piange Sergio Ginepro, tifoso fedelissimo della VL e commerciante storico. Se ne è andato a 78 anni. A centropagini invece, Stadi e Palace, Fate Largo, capienza ampliata nelle strutture favorite, soprattutto quelle piccole. A Urbino invece, piccola rivoluzione, girandola di sacerdoti, la diocesi di Urbino ne cambia a 36. Poi a Miralfiore, ragazzo finisce in overdose per tre volte in pochi giorni. Sul tema dei vaccini, lo scatto di settembre, poi la terza dose al via nelle RSA e Badanti e Colf, l'incognita controlli sul Green Pass, tante non sono immunizzate. Poi sotto, Vis, assalto fallito, la vittoria sfuma al 94esimo, bianco-rossi raggiunti dalla Viterbese, la pallavolo, volei a uno, Megabox si presenta, è come in un film. E adesso andiamo sul Corriere Adriatico. In apertura, rotatorie. Ciao ai New Jersey. Dopo tre anni diventerà stabile la rotonda di Largo Tre Martiri. Il cantiere partirà a primavera, siamo sempre a Pesaro. Affidato l'incarico, lavori per 400.000 euro. La sperimentazione viaria era iniziata a febbraio del 2019. Il calcio, invece, la fotonotizia di oggi, la vis raggiunta a tempo scaduto, a Viterbo finisce 1 a 1. Il report che pubblica invece il Corriere si abbassa l'età media dei positivi, ora è a 39 anni. Sotto, invece, addio a Ginepro, il commerciante arbitro d'eleganza. Medici di famiglia sono ancora troppi i nodi da sciogliere a Pesaro, da Pesaro. Poi, piano, rifiuti, al voto il Comune richiama i sindaci perplessi. E di taglio basso, sacerdoti, il Montefeltro riordina le sue parrocchie. L'Arcivesco Votani interviene sulle nomine, dovrà, dice, diventare un lavoro fatto in equip. Dunque, come spesso avviene un po' in tutte le diocesi di questo periodo, nel mese di settembre, insomma, ottobre, ci sono gli avvicendamenti, si cambiano le parrocchie, e succede anche a Durbino. Avvicendamento dei sacerdoti e nomine, l'Arcivesco Votani sta provvedendo allo spostamento di molti parroci, tenendo presente la complessità del territorio, le forze a disposizione e i carismi di ognuno, per camminare in cordata con i confratelli delle rispettive unità pastorali. E poi, il progetto Waterfront sarà un parco sull'Adriatico, questa è la pagina di Fano. Andiamo sulla pagina 4 del Carlino di Ancona. Maschera e catene davanti al Comune, noi traditi, no alla tassa dei tamponi, protesta ieri mattina a largo 24 maggio, non sono né Green Pass né Novax, ma non posso pagare, 400 euro al mese a livello familiare per poter lavorare. Mi copre il volto per proteggere i miei parenti. Dunque si è incatenato al Comune col volto coperto, poi ovviamente è stato identificato dalla polizia, è successo ieri intorno alle 8 e mezzo del mattino, un quest'uomo di 46 anni che è arrivato a Palazzo del Popolo con l'intento di protestare pacificamente contro il costo dei tamponi obbligatori per ottenere il Green Pass. Ovviamente notato dai dipendenti, è stato poi segnalato, lui dice ho due figli, non sono Novax, non sono Green Pass, no Green Pass, chiedo tamponi gratuiti perché solo così il vaccino è davvero una scelta e quindi ovviamente non un obbligo. Adesso sull'altra pagina invece del Carlino di Ancona ha sospeso l'infermiere Novax. Lui dice giusto, è giusto così. Stiamo parlando di questo infermiere che abbiamo intervistato anche noi qualche tempo fa, così come tutti i colleghi anche delle tv nazionali. Enzo Palladino si dice sereno, mi aspettavo il provvedimento anche se lo reputo eccessivo, visto che non percepirò neanche lo stipendio. Questo infermiere che da cinque mesi ha detto no al vaccino anti-Covid, nella lista delle quattro sospensioni del servizio, dal servizio dell'ospedale di Torrette, un provvedimento come riportato ieri dal Carlino, è diventato ufficiale a cavallo tra la fine della scorsa e l'inizio di questa settimana. E tra i quattro casi c'è anche quello appunto di Palladino. Lui dice, sapevo che prima o poi sarebbe accaduto, afferma l'infermiere, in un certo senso me l'aspettavo, considerata la legge e i suoi dettami specifici, credo che alla fine sia giusto così, in fondo è scritto nero su bianco. Detto questo ritengo la punizione però troppo severa, togliere lo stipendio al 100% è ingiusto. Paradossalmente se dovessi prendere a botte o mio collega chi altro in ospedale mi darebbero una sospensione per alcuni mesi ma alla metà dello stipendio. Fino all'altro giorno ho lavorato come sempre negli ultimi 30 anni con professionalità e dignità. La sua posizione, per chi se la ricorda, è una posizione chiara, la posizione ripeto di un infermiere, non sono contro i vaccini ma non mi fido di quelli realizzati per questo virus. Addio a Ginepro, una colonna del commercio. Siamo di nuovo tornati sulla pagina di Pesaro, tifoso fedelissimo della VL, sempre in prima fila dietro la panchina ospite, storico titolare del negozio di abbigliamento, aveva 78 anni. Il figlio Mirko dice ha sempre visto il bicchiere mezzo pieno, premuroso nella famiglia e questo è l'articolo. Ogni tanto oggi pomeriggio alle 16 in Duomo ci sarà il rosario, domani alle 10 sempre in cattedrale si svolgeranno i funerali. E adesso la pagina di Fano. Tassa sull'ombra, i conti non tornano. Questo è il titolo d'apertura per il comune, l'aumento dipende dal passaggio al nuovo canone, qualcuno paga meno, ma chi? L'articolo di Anna Marchetti questa mattina, poi i rincari, il passo carrabile costa il 60% in più, un cittadino denuncia mostrando le fatture da 25 euro a 60 in un anno. La nuova Sassonia invece con gli alberi, Viale Adriatico, Parco sul mare. Il nuovo progetto che viene chiamato Waterfront, quindi il fronte sul mare, la passeggiata di Sassonia. C'è questo progetto in due sezioni, sette sono le proposte esaminate a Torrette, Ponte Sasso, spazio alla mobilità dolce. Quindi cambierà tutto, cambierà tutto lo scenario sulla passeggiata della Sassonia. Poi Asfalti in ritardo, no dei sindacati. La Filt CGL attacca insieme ai lavoratori del trasporto pubblico. Andiamo sulla pagina invece di Urbino, anche qui in apertura la rivoluzione tra virgolette della diocesi. La diocesi cambia 36 parroci, rotazione in quasi tutte le parrocchie del territorio. Il segretario di Monsignor Tani dice purtroppo non ci sono più vocazioni. Ogni dieci anni l'arcivescovo sollecita i sacerdoti a rinnovare la loro missione. E per chi poi ha tempo, o compra appunto il giornale, avrà la possibilità di leggere l'elenco di tutti gli spostamenti correlative parrocchi. Poi famiglie in difficoltà, comune aiuta per l'affitto. Aperti ieri bandi riservati a coloro che hanno un'isee fino a 5.983 euro. Domande entro il 3 di novembre. Allora, andiamo sulla pagina di Senigallia. Nuovo rinvio per il Ponte degli Angeli, slitta a lunedì l'apertura alle auto. C'è questo controordine della Giunta. Domani, giorno ipotizzato per il primo passaggio dei veicoli, ci sarà però il mercato. Poi sotto ciclovia, sbagliato cambiare il tracciato. Il capogruppo del PD romano dice lungomare per le bici porta sicurezza e vivibilità. Eccolo qua. Prima, andiamo subito Riccardo, eccomi qua. Almeno la foto l'hanno scelta giusta e quindi questo mi rincuora un po'. Adesso andiamo a leggere le ultime due pagine della rassegna stampa. Come vedete il titolo mi riguarda. Il titolo mi riguarda è un titolo forte. Effettivamente quando l'ho letto questa mattina, insomma, ci sono un po' rimasto. Dico adesso che cosa ho fatto? Mi sono domandato. Direttore TV istiga al reato. Pesante, voglio dire. Dico, Dio, che cosa ho combinato? Esposto dell'ordine dell'ordine dei medici. Allora, il presidente Paolo Battistini, che tra l'altro è stato il mio medico di famiglia per tanti anni, anche il mio medico personale, anche se poi non ci sono mai andato, esorta a farsi prescrivere false malattie per aggirare il Green Pass. Cioè, capite? Allora, la macchina del fango, e io me l'aspettavo perché tanto uno quando di io dico mi assumo le responsabilità, è chiaro che mi assumo le responsabilità di quello che dico. Spero sempre di aver detto cose nel limite della legge, poi perlomeno non c'è mai stato l'intento né di aggirarla né di dire cose contro la legge, perché la legge c'è, anche se ingiusta, va comunque rispettata. Tant'è che già da giorni stiamo lavorando anche qua per organizzarci per il 15, dal 15 in poi, siccome io non intendo piegarmi a questo ricatto del vaccino, quindi non farò nel tampone del vaccino, allora lavorerò fuori da questo ufficio, non potrò entrare qui in televisione dal 15 in poi, e quindi mi sto organizzando, sto organizzando un gazebo fuori per trasmettere sia la resegna stampa, sia il telegiornale quando sono in conduzione, quindi io non entrerò più qui, ma starò fuori, quindi lavorerò fuori, all'aperto, farò i miei programmi all'aperto, coerente perlomeno con quello che è il mio pensiero. Ma da qui a dire che esorto a prescrivere addirittura false malattie per aggirare il Green Pass, io sfido chiunque, ma non mi sembra di averlo mai detto, anzi la mia posizione è sempre stata molto chiara, poi avrò i miei modi di dire, i miei modi di parlare, i miei modi di esporre, ma comunque non ho mai detto alle persone di non vaccinarsi, l'ho sempre detto, ci sono le registrazioni, quindi sono serenissimo, non ho mai invitato a non fare il vaccino, chiaro, ho detto a mio giudizio quello che pensavo, eccetera, eccetera. E questo lo si può vedere, lo si può leggere anche sulla mia pagina personale, quindi non quella della televisione, ma non ho mai, mai e poi mai detto quello che scrive oggi il giornale. Dice il Presidente dell'Ordine dei Medici Paolo Battistini, questo signore che sarei io, questo signore esorta per iscritto su Facebook, i suoi followers, ad inventarsi una patologia, istigando di fatto a violare la legge per ottenere una falsa certificazione che consente al lavoratore senza Green Pass di stare a casa, senza perdere lo stipendio, facendo pagare la sua falsa malattia allo Stato. Stato. Cioè, avete capito di cosa stiamo parlando? Cioè, io avrei detto o avrei scritto queste cose. Io quando ho letto questa cosa stamattina dico, ma io non l'ho mai detto, ma io non l'ho neanche mai pensato, anche perché potrei essere anche un po' andato fuori di testa, ma non fino a questo punto. Quindi quando l'ho letto ho detto, vabbè, è chiaro che so come funziona il meccanismo per cui è andata così e adesso mi difenderò e cercherò di difendermi. Da cosa? Non so nemmeno da che cosa, perché queste cose non le ho mai scritte né mai dette. Ok, poi andiamo avanti. Bene, riteniamo che questo signore, sempre io, non possa né scrivere queste cose impunemente, ma io spero che qualcuno produca questo scrivere, me lo faccio vedere perché io non l'ho mai scritto, tant'è che è tutto lì, tutto scritto su Facebook, basta andare e uno legge le cose che scrivo. Così il Consiglio dei Medici, dell'Ordine dei Medici, ha deciso di presentare l'esposto alle autorità competenti, compreso l'Ordine dei giornalisti, affinché valutino se siano state violate le leggi a partire da quelle deontologiche della professione di giornalista. Non pensiamo né sia possibile per chiunque, e a maggior ragione per chi riveste la professione di giornalista, sollecitare a commettere violazioni pur di raggiungere un proprio scopo, ossia aggirare una norma dello Stato, mai fatto e mai scritto. Tant'è che, come dicevo, io stesso dal 15 non sarò più qui in studio, pur essendo il mio luogo di lavoro, dove io pago un affitto, eccetera, eccetera, ma starò fuori proprio perché la legge la rispetto. Quindi figuriamoci se vado a scrivere una cosa di questo genere, o a dire una cosa di questo genere. Però che cosa dire, nulla di nuovo sotto il sole, voglio dire, è una cosa che mi aspettavo, una cosa che prima o poi sarebbe successa, e quindi è così. Io l'unica cosa che, l'unico motivo per cui io continuo ad espormi e a metterci la faccia è soltanto perché vedo che c'è tanta gente, come ho già detto, preoccupata, c'è tanta gente che soffre, c'è tanta gente che non dorme più la notte, c'è tanta gente che non sa più come fare, perché comunque questo vaccino non se lo vuole fare. Allora io ho sempre detto, non sono contrario al vaccino, non sono un Novax, i vaccini ce li ho tutti, sono uno che ama la libertà e vuole continuare ad essere libero, punto. Nessuno può obbligarmi di fare un vaccino. Questo è il mio pensiero e sfido chiunque a tirar fuori cose che hanno scritto ormai, vabbè, si sa che è così e quindi andiamo avanti. Il Corriere Adriatico invece, sempre partendo da quest'ordine del giorno dell'ordine dei medici, scrive, quella tv è antipass e chiedo di vigilare, e chiedo di vigilare il Presidente Battistini. Allora, se devo scegliere tra i due articoli, scelgo il Corriere Adriatico per il modo in cui ha esposto molto più. Di là si vede che c'è dell'astio, ma quello è comprensibile. Io e Carlino non siamo mai andati d'accordo, per quanto non ho mai detto di non comprarlo, come dice il collega Damiani, dove dice sbeffeggia i giornali, li esorta a non comprarli. No, ci sono milioni di registrazioni, in 15 anni di rassegna stampa io ho sempre detto di comprare i giornali, i giornali sono in edicola, comprateli, e forse per me la rassegna stampa oggi, 2021, non ha più motivo di esistere per come la stiamo facendo. O si leggono le prime pagine e il resto poi se uno se le compra, perché sfogliare i giornali di fatto non è neanche giusto. Ma l'ho sempre detto, non lo dico adesso, e ci sono le registrazioni. Andiamo sul Corriere Adriatico. Quella tv è antipass, chiedo di vigilare, nell'ultimo consiglio dell'ordine dei medici è stata discussa e formalizzata all'unanimità una segnalazione da inoltrare agli enti competenti, cioè l'ordine dei giornalisti e la prefettura, nei confronti del direttore responsabile dell'emittente televisiva. Occhio alla notizia, vabbè, l'emittente televisiva è fano tv, ma comunque va bene lo stesso. A darne la notizia è il presidente dell'ordine dei medici provinciale Paolo Maria Battistini, una decisione, quella intrapresa dal direttivo, che arriva dopo recenti ripetute segnalazioni di medici, di famiglia alle prese con diverse richieste dei propri pazienti per certificazioni di malattia o di esonero dalla vaccinazione. Il caso, la segreteria dell'ordine dei medici ha inviato ieri all'attenzione della prefettura e dell'ordine dei giornalisti e delle Marche, un'informativa o meglio una segnalazione, a monitorare la comunicazione diffusa dall'emittente tv privata, occhio alla notizia, in particolare rivolta alla persona del suo direttore responsabile. L'ordine ha scelto in questo modo di prendere una posizione netta appellandosi alla vigilanza sui contenuti e sulla veridicità delle informazioni diffuse pubblicamente, ritenendo opportuno informare anche il rispettivo ordine eccetera eccetera. Ora è chiaro che qui si cerca di spaventare, si cerca di mettere paura, ma già io sapevo, mi era arrivata la voce qualcuno addirittura all'esposto, la procura, destra, sinistra, tutti a dirmi stai attento, stai attento. Ma stai attento di che cosa? Sto semplicemente esponendo un mio pensiero, il mio pensiero che è il pensiero condiviso anche da tantissime persone che hanno deciso di non volersi vaccinare, ma semplicemente non perché, non per chissà quale motivo, ma semplicemente perché non se la sentono. Punto. Non vogliamo dare voce a queste persone? Non vogliamo, dobbiamo soltanto dire le cose che ci, allora diteci che cosa dobbiamo dire e buonanotte. No, l'opinione è vietata. Siccome sei giornalista non puoi fare, devi solo leggere i giornali, molti dicono nei messaggi che arrivano con veemenza, devo solo leggere i giornali, come se fosse il maggiordomo di casa. Ora, è chiaro che qui c'è l'intento di non voler disturbare il manovratore. Il manovratore è lo Stato, lo Stato che si è imposto questa linea, tutti a seguire questa linea, tutti allineati e chi è contro, chi va fuori dal coro, chiaramente viene marchiato e etichettato come appunto, vabbè, Novax è il minimo, sindacale, ma poi con tanti altri titoli, tra cui questo che apprendo questa mattina di essere un istigatore, eccetera, eccetera. In realtà, ripeto, io sono molto sereno in questo senso, non ho, dirò la mia, non c'è nessun problema, sperando che tutto vada per il meglio, ma io sono certo delle cose che dico, convinto anche delle cose che dico, e se le dico le dico per, non per aggirare certamente la legge. Dunque, anche qui vedete, poi chiudo perché non vorrei stancarvi troppo, ma c'è dell'altro. La decisione di segnalare l'operato anche alla Prefettura è motivata dal fatto che nell'occasione di format con interviste o domande in diretta, invitava i cittadini, spettatori, a richiedere, a farsi rilasciare certificati di malattia, piuttosto che presentarsi sul posto di lavoro, esibendo la certificazione di Green Pass richiesta, un atteggiamento su cui l'ordine dei medici non può esimersi dall'espermere la propria contrarietà, dal momento che proprio loro sono i soggetti chiamati a produrre una simile certificazione. E vabbè, poi chiaramente vogliono passare come quelli che, no, loro non si permetterebbero mai di entrare nel merito della democrazia, noi siamo molto democratici, quindi come si fa in questi casi, si mette lo zuccherino e si dice personalmente non entro nel merito della libera scelta, della libera opinione, vabbè, lasciamo perdere. Allora, questo è, per dirvi insomma, ecco che la battaglia continua, si fa per dire battaglia perché tanto è una battaglia persa, ma comunque io continuerò ad esprimere le mie opinioni, siamo in un contenitore in cui questa rassegna stampa è un commento alla stampa, io cercherò sempre di dare spunti di riflessione in modo che qualcuno non si addormenti e resti un po' sveglio, tutto qua, perché sapete, quando uno poi legge soltanto si addormenta, invece quando uno dialoga si rimane svegli, attenti, e questo è il mio intento, nel mio piccolo, ovviamente. È tutto, grazie per aver seguito Occhio ai giornali, l'appuntamento con informazioni questa sera alle 20.30 con il telegiornale. Arrivederci.